Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, segnaliamo tratto chiuso per lavori tra Rivegio e Aglio in direzione sud. Il provvedimento è in vigore fino alle 21. Possibili disagi inoltre per presenza di personale su strada tra Firenze Impuronite e Firenze Scandicci in carreggiata opposta. In A12 prudenza per vento forte tra Pisa Centro e l'allacciamento con l'Aurelia, raccomandiamo particolare attenzione a mezzi teronati e caravan. Arriviamo in Fipili per lavori, un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra la Strassigna e Monte Rupo in direzione mare verso Firenze, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra San Miniato ed Eppoli Ovest. Prima di salutarci ricordiamo che dal 15 novembre scatta l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo su molte strade della Toscana. Utilare i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città meroportana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!